Si mobilita anche l'assessore regionale alla sanità Caterina Ferrero per il caso di Lena Mentano, una 77enne romena morta all'ospedale di Novi Ligure durante un'operazione chirurgica di collecistectomia, un normale intervento di routine. L'assessore ha affermato che l'unico modo per affrontare situazioni come questa è quello di perseguire la massima chiarezza e la massima trasparenza e se lo augurano anche i parenti della signora ai quali i medici avevano assicurato che non ci sarebbero stati problemi. Elena Mentano si trovava da alcuni parenti ad Arquata per un periodo di convalescenza dopo un'operazione a un rene in Romania. Nei giorni scorsi aveva avvertito frequenti coliche addominali e quindi lei era stato suggerito di sottoporsi all'intervento di asportazione della cistifellea. Tutto potrebbe essere accaduto a causa dell'aggravarsi del quadro clinico durante l'operazione nel corso della quale si sarebbe scatenata un'emoragia. La direzione sanitaria dell'ASL di Alessandria ha già attivato un'indagine interna volta ad accertare l'accaduto ed eventuali responsabilità e ha disposto l'invio cautelativo degli atti alla procura. Intanto l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia. E ancora a Novi Ligure una donna di 46 anni è stata multata dai vigili urbani perché non ha tenuto il proprio cane al guinzaglio. Lei è stata contestata la violazione alla delibera del consiglio comunale che stabilisce che i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private e di prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni. Il cane della donna di nome Pinco era stato trovato dagli addetti del comune da solo mentre girovagava per la città ed è stato portato al canile. Alla donna è stata quindi elevata la sanzione amministrativa di 50 euro che dovrà pagare in 30 giorni. Lastre di amianto sul lato sinistro del Po tra Morano e Cognolo insieme a una discarica sulla strada della Diga Lanza in territorio casalese sono già state segnalate alla polizia municipale che potrebbe risalire agli autori dello scarico abusivo grazie al materiale che vi è stato trovato tra cui una ricarica telefonica. Il ritrovamento è stato fatto dalle guardie ambientali. Liberarsi in questo modo di materiare di amianto proprio oggi che si celebra la giornata mondiale delle vittime dell'amianto, commentano le guardie ambientali, è un fatto incivile. Dopo le analisi i comuni provvederanno a fare asportare le lastre e a ripulire la discarica. E cambiamo argomento. Prende via domani la terza edizione dell'Alexandria Scriptori Festival, un raduno nazionale di scrittori curato dall'associazione Dietro l'Arte ideato dallo sceneggiatore Claudio Braggio e dal compositore Pasquale Galluzzo. Si tratta di una maratona di due giorni con epicentro a Palazzo Moferrato e una serie di eventi collaterali in programma anche a maggio. Il tema scelto quest'anno per la rassegna che indaga sull'evoluzione della scrittura nel tempo e impronte di futuro. Tanti gli appuntamenti con presentazioni, concorsi letterari, anticipazioni, premiazioni e l'iniziativa Scambia Libri. E poi incontri su scrivere psicologico, cioè svelare se stessi attraverso la scrittura con l'intervento di psicologa e psicoterapeuta, scrivere musicale con progetti nel mondo editoriale della musica, a ciò vanno aggiunti scrivere poetico con un'ampia disamina della poesia contemporanea e del cambiamento sociale e scrivere filosofico con interventi sul rapporto tra la scrittura filosofica e le scienze sociali. Per finire scrivere web e scrivere cinema con un mix di relatori, ospiti e informazioni. E così da Alessandria e provincia per ora è tutto, noi vi ringraziamo per l'attenzione e la linea va allo studio. Grazie.